Ladies and gentlemen, benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite Ho seguito i vostri consigli e le vostre richieste nei commenti E quest'oggi gioco per 100 minuti contro di voi Nella mia mappa 1v1 Il codice è sempre lo stesso, lo trovate qua davanti Continueremo ad aggiornarla Mi raccomando, giocatela magari con i vostri amici O non solo, entrate e vi beccate fra voi della community Per riscaldarvi prima delle partite normali Fondamentale, supportate il mio codice catore Stepney Siamo in 500 e marzo è appena iniziato Confido in voi che raggiungeremo il tetto di 10.000 Iscrivetevi al canale che arriviamo a un milione Io vi auguro una buona visione Eccomi qui, carico a bestia Pronto per gasarmi il più possibile Cercheremo di fare circa 10 uccisioni di cap ad ognuno Così gioco con più persone Se non sapete come fare ad entrare la mappa Lente di ingrandimento alla sinistra di gioca Inserite qua il codice e fate invio Ed eccola qua, Stepney 1v1 in ranked, in questo momento ci sono 78 persone all'interno Vediamo chi becchiamo Chissà se qualcuno sarà in grado di battermi Abbiamo già qua il nostro avversario Skull, ciao bello Ovviamente c'ha già le sue armi perché probabilmente L'ha già giocata e c'è il salvataggio Tra l'altro prima un ragazzo Stavo giocando e veniva Eccoci, veniva continuamente Quaggiù a controllare se ero il vero Stepney Ma la classifica viene aggiornata manualmente Non c'è modo di farlo in automatico Quindi voi mandate il vostro rank qui E se siete saliti Riuscirete ad arrivare in cima Piano piano Vamos, vamos, vamos Al meglio di 10 eh Ah già, Alexa, imposta un timer di 100 minuti Uh, prima kill del nostro amico Aspetta che qua la videocamera è storta Ok, eccoci, ci sono, ci sono Scusami, scusami, scusami Che arriva a 10 vince, eh Ti tengo bello sott'occhio Uh, 94, questo è godrioso 56 Uh, la la 1 a 1 No, gli scudini Let's go All'inizio quando mi avevate proposto questa cosa Ho pensato che sarebbe stato un po' ripetitivo Ed è vero Però Questa è la migliore occasione Per giocare insieme a tutti quelli che me lo chiedono in realtà Ehi là Stai calmo Stai calmo Ehi 61 Da dietro in salto E si muore così Questo mi piace un botto Il doppio edit della finestra mi fa impazzire It's over Bello il pre-edit Cioè il pre-fire Ok, ciò che fai Ciao, bello Mi ha fatto malissimo qua Ah, lo sapevo Lo sapevo Let's go Ohioioioioioioioioioioioioi 12 di vita è pochissima Eh, qui me la sono giocata da Dio eh And now it's over Guarda, t'ho quasi chiapata in volo No gli scudini no Vamos 9 a 2 Potrebbe essere la tua ultima partita Per oggi perlomeno Aia Questa poca vita non so cosa ci inventeremo Cosa vuole fare Spacco tutto e rifacciamo È molto bravo a crancare Io sono one hit Lo sapevo Ci sta It's over GG Vediamo se trovo le moj del GG Le moj GG Ciao bello Comunque a parte gli scherzi da quando faccio il riscaldamento Prima di giocare le normal Sono clamorosamente più forte Fancy Fancy no girls Vamos Oh Aia Vabbè qui ho failato tutto Questo sembra bravo Ops Oddio Eh qui siamo alla buccia Siamo alla buccina 12 di vita Nooo La mitraglietta a tre colpi Scorrettissima 2 a 0 eh 2 a 0 2 a 0 Let's go Bello questo però 94 white E ora è brutta eh Let's go Oddio Madonna mi ha pampato di brutto Oddio nel mio box It's over Sta spammando con la mitraglietta It's over Bello sudacchiato eh Bello sudacchiato il Fancy no girls Dai 4 a 3 Cavolo è la più sudata che io abbia mai fatto Da quando è uscita la mappa Giuro Si Si No raga un demone Eh vabbè Cosa Come hai preso quei 54 danni Almost impossible Easy No Ragazzi c'è la litbox sul corpo Bello sto 106 godrioso Let's go Craccato comunque Bello sudatissimo Dai dai 6 a 5 Ditemi cosa ne pensate Potremmo fare Che chi mi batte Lo aggiungo agli amici Bello 94 Ah Oh mio dio Oh mio dio Sei pari No 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 Eh Il mio mino Si ammant Dai Dai Vabbè è un demone raga È un demone Perché quando c'ho poca vita Inizia a spammare sempre con la mitraglietta 102 Siamo entrambi messi malino Però io se vengo colpito adesso Sono morto Come? 26 High limit È caduto Ma no Non vale così Ma scusami Mi prendi l'inground Distruggendo le strutture Let's go Let's go Bello bello Sette pari eh Raga Questo fight è infinito Ve lo giuro No way No way No way GG Nooo No no la capocetta era lì Aiuto Calmi 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 Focus Focus Perché è finita si dice alla fine No mi è stato anche lì Dai Let's go Let's go Let's go Let's go Nooo Faccio ammissare queste cose così facili Side jump È finita Let's go Let's go Dai 9 a 8 eh 9 a 8 Occio Occio che qua siamo al match point volendo eh Nooo Ho missato un edit 9 pari No ho missato tutto È finita Sover Ho missato tutto raga Tutto Tutto quello che si poteva missare L'ho missato anche qua Easy GG Sover 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 No guarda che passano i colpi a traerso con quella mitraglietta maledetta È suo Oddio Non ho rischiato E non mi puoi però fare sempre side jump in questa maniera Con il coso eh Dai Con il rampino Oddio No vabbè Nooo GG 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 Spammi un po' troppo con la mitraglietta eh Per i miei gusti Però GG Raga ho provato Ci ho provato SG 29 27 Eh qua mi sembra già di vedere una roba diversa da prima Ho rischiato eh Tra l'altro Ah Ah Molto bene Sto missando un po' troppo eh Dai Sover E raga il tipo di prima cioè mi ha fatto fare La stanza dello spirito del tempo Adesso Sono invulnerabile Oh one shot Oh one shot one shot Sono one shot Aiuto Oddio Il rischio C'era Ah Ai 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 Eh qua è il relaccio Oh Il mio box Aiuto Eh che cosa sto facendo Ah sono ubriaco Uno di vita raga Uno di vita E' pazzo, è pazzo Completamente pazzo Mi ha sniperato E' finito, è finito, è finito E' super Oh no, no E' mio Mi ha squagliato GG GG Madonna, mi state facendo sudare Raga, comunque Matteberve, Matteberve Eccoci qua, Matteberve ha quittato Non si è reso conto Che lo stepping aveva appena gioinato Ciao Dennis, ti stavo aspettando Eh, sono qua Let's go Iniziamo con 1-0 No, come ho fatto a messare sta cosa, dai Mi stanno tutto 43 Ehi Ma fai con quegli scudini It's over Full box Eh, qua c'è uno di vita E' dura Maledetto Mi si beve gli scudini ora Non c'è stato tempo per farlo Finita It's over Madonna Madonna Bello questo Tutto mio lì E' brutta qua E' brutta Non aprire Eh, me la sono voluta rischiare No Everything is mine Right here Right now Eccolo GG Un abbraccino finale E salutiamo Dennis Prossimo sfidante Blame Oscura Ah Pazzo Completamente fuori di testa Completamente fuori di testa No E' ruolaccio mio Però poi Sta cosa è alla scala La dovevi fare 102 E' qua dura Mi stavo tutto 3 a 0 Potrebbe essere la penultima sfida di oggi Ecco, ero già qui Ero già qui Full boxino Ero è brutta Non aprire Non aprire Non aprire Uomo avvisato Mezzo salvato Il detto dice così No Ah Eh, qui Qui ho preso il controllo Di tutto E che commetti sempre Lo stesso errore Stavolta Stavolta l'errore L'ho fatto io Cosa E' parzito Con lo spray Oddio Qua non è bello Eh Qua non è bello Mi trovano via D'uscita Oh Oh Mi aveva rimpiazzato il muro Non me l'ho accorto Rischioso Eh 9 a 0 Brutta 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 la storia Qui è stato tutto Non aprire Non farlo Non farlo Però eri stato avvisato Siamo 10 a 0 Dovrebbe finire qua Un'altra L'ultima L'ultima è tua L'ultima è tua Ti cerco il GG GG Te lo faccio così E te lo faccio anche così GG GG Pronti Per affrontare L'ultimo avversario Sitter G Tutto suo 46 white Brutto Brutto questo Eh Aia Oh Co Ula Ah Ti ho tolto Il piede d'appoggio Ti ho tolto Oh Eh Ci stava Ci stava E' impazzito E' impazzito 35 white Oh Side jump Imprevisto Tutto suo Eh Però il one pump Dello Stepney A volte colpisce Pazzo Pazzo Pazzissimo 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 Oh No Oh 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 Ula Oh Miss di nuovo Steps What the fuck Are you doing No Brutta Storia Dove 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 Oh Pazzo Come me Pazzo Come me Eh 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 Ah Non c'è voi Ride and pick No C'è da dire che sto messando tutto Eh Ai 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 8 a 5 Ah No Che idiota che sono Ah Ah Eh Eh E qui inizia a prendere il sopravvento L'ansia Ah GG Eccolo Timer che suona Sancisce la fine di questo video di oggi Oh 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 Ah Bella bella mi è piaciuta L'abbiamo chiusa bene l'abbiamo chiusa da dio Cari amici il video di oggi termina qua Mamma mia 100 minuti non ho più uno È bello pesante Però vi sarei divertiti non so se siete riusciti a partecipare Ma ci saranno sicuramente altre occasioni Vi ricordo che ogni giorno io gioco la mappa prima di registrare i video Mi raccomando supportatemi con il codice giocatore Stepni Nello shop si toglie da solo tra pochissimo c'è la nuova season Nell'inizio di ogni nuovo mese siamo a marzo quindi Mi raccomando poi taggatemi su Instagram che rispondo tutti quanti Un bel pollice in su Iscrivetevi al canale e alla campanellina Ci vediamo al prossimo video Siamo sempre tutto Buone Dovano chiamare me per nuova scena comunque Cioè questo extra beat finale fuori di testa Hmm 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 So No No Mmm No